Vai tranquilla, piano piano, vieni. Io qui tanto conosco tutti, per me oramai qui è fatta, capito? Non ti preoccupare, mettete a posto, su. Sì maestro. Dobbiamo fare tutto da fretta qui perché non c'è tempo, capito? Sì, sì. Pronti? Ma che, ma dove, ma che provanti e provanti maestro? Vai, 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 vai. Ma dove vado? Io quasi quasi me ne tornerei al mio paesello, dalla mia mamma che me lo diceva sempre la mia mamma. Ma tu non te devi preoccupare, tu sei una bomba, te l'ho detto che sei una bomba, qui è fatta, capito? Allora maestro, se sei una bomba com'è che qua pago, pago ma non incasso mai. Ma incassare, incassare molti soldi, ti preoccupavo, dai i soldi che incassarai. Comunque, insomma. Te li faccio incassare io, il maestro Caballo devi far incassare, capito? Ma comunque piacciono i dirigenti, no maestro? Te l'ho detto che io ho già parlato con il dirigente, l'amico mio, quante volte te lo devo dire? E questo è il tempo. Oh, io ho già fatto intralazzato, ho già fatto tutto, non ti preoccupare. Senta maestro, allora perché non gli facciamo vedere il buchi buchi oggi? Sì, adesso proviamo il buchi. Perci fare benissimo. Sì, ma che buchi, quello che abbiamo provato? Sì, sì maestro. Piuttosto, girate, fammi vedere il vestito, sì. Ah, le piace maestro? Sì, è bellissimo, è bellissimo, perfetto. Sì, allora io sono pronta. Mi raccomando, eh. Senta maestro, ma insomma è possibile che passano sempre qua e mi sconcentrano? Sei pronto, ma non passate che dobbiamo fare una prova. Oh, io non riesco proprio. No, non ti preoccupare, ho sistemato tutto. Sei pronta? Vai col filmato! Questo è quanto tempo devo entrare? Te lo dico io, sullo stop. Sì, ma dice lei. Stop! Questo sanorito che il cantore mi fa, non si può parlare con chi un tempo, non si può esistere, bisogna provare. Girate, girate! Questo sanorito che il cantore mi fa, è una sensazione che mi viene da copa, che mi fa sapere del sanorito! Via! Quando tua ragazza non ti fila perché... Gambetta! ...è un pregato, sa, qua è nessun po' di te! Un po' di valore! No! 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 Vita, 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 Sontanto! Sontanto, Ritu! Oh, oh, viene! Fate, fate, fate! Tutto a posto, bravissima, bravissima! Sontanto, maestro! Sontanto perfetta, per questa volta te dico che è fatta! Ma l'ho vista, ma l'ho vista! È fatta! Senta, ma come si fa a sapere se me l'hanno preso, maestro? Lo dico io, te lo dico io, io ho fatto già pure! Sì! Il costo mi dovresti dar 15 mila lire. Ancora, maestro! Sì, sì, no, devo comprare una mezza porchetta per il dirigente, capito? Ma quanto mangia sto dirigente? Non preoccupare, che ho sistemato tutto, capito? Non ti preoccupare! Senti, sai, purtanto, che ti dico? Che mi dico? Sai che sei tu? Sì! Sei una bomba! È vero, è vero! Sì, chi sei tu? Sì, chi sei tu? Sono una bomba, bello! Chi sei tu? Sono una bomba! Chi sei tu? 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 Grazie a tutti.